Guarda Rabbi il treno, passa il treno, 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 oh si sta fermando Ciao a tutti ragazzi, siamo Rabbi e Molly e oggi siamo all'Italia in miniatura Che cosa facciamo oggi Rabbi? Allora oggi vedete abbiamo tutta l'Italia e anche un pochino dell'Europa Tutta rimpicciolita in miniatura quindi noi saremo dei giganti in confronto Quindi oggi andremo in giro per l'Italia e saremo dei giganti Voi lasciate un grandissimo like e iscrivetevi se non vi siete iscritti e lasciate almeno quanti like Rabbi? 10.000 like 10.000 like, forza seguiteci Oh guardate il vulcano, stai ruttando Stai ruttando, guardate ci passa anche il trenino Passa anche il treno Ciao 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 Molly guarda esce il fumo di lì Guardate ragazzi, questa è l'Etna, il vulcano della Sicilia Guardate, prima l'avete visto ruttare, avete visto quanto è andato forte? L'avete visto ruttare? Ruttare Ruttare? Ruttare L'avete visto ruttare? E ruttare, Molly Ok adesso andiamo in giro e vediamo tutte le costruzioni E saranno piccole e piccole, noi saremo giganti Guarda Rabbi abbiamo trovato un nuovo amico Sì abbiamo trovato il piccolo aviatore Ehi ma chi sei? Come va? Io sono il piccolo aviatore di Italia in miniatura E vi do il benvenuto qui in questo meraviglioso parco Come va ragazzi? Tutto bene Scusate Maro sono molto impegnato, devo ballare, devo far sentire la mia energia Ah ok, allora ti lasciamo in pace Sì Allora passiamolo Devo fare una cosa Cosa devi fare? Scusate Cosa devi fare ragazzi? Ah deve lanciare l'aeroplano Ah lanciare l'aeroplano? Ho bisogno di concentrazione 3, 2, 1 Lancia Pronti Marami Ok ciao Ciao via Torra dopo Ciao ragazzi Ciao ciao Guardate ragazzi c'è una barchetta piccola piccola Io voglio salire lì sopra Eh ma te non ci starai mai lì sopra Siamo troppo grandi Non vedi che siamo diventati giganti Sembra grande ma è piccolissima eh E mini mini E bigi bigi E bigi bigi Allora adesso Rebi io voglio andare lì Ah e dopo andiamo lì Ciao Torra Adesso andremo qui Guardate saliremo su uno di quei Cosa sono? Eh dei tronchi Ah dei tronchi di legno Ok andiamo subito mettiamoci in fila Faremo come i castorini Il castoro Oh Ecco ci siamo partiti Siamo sul tronco di legno Adesso andiamo lassù Guardate una casetta Chissà chi l'avrà costruita I castori L'abbiamo costruita noi Siamo dei castori Gennati Castori Ehi castori Oh 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 Eccomi Ci siamo Guardate che bello Che bello mamma mia Oh 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 mio Dio Rebi Si Siamo diventati dei castori Ma no ma dobbiamo andare lassù Oh mio Dio prepariamoci, oh mamma, oh mamma, ma lassù in alto andiamo, allora abbiamo fatto un sacco di montagne russie, un sacco di giochi, quindi non abbiamo più paura di niente, siamo fortissimi, viva la mia moglie, guardate c'è il mare mosso, ci sono le onde, ci sono altri castori là, oh mio dio dopo andremo lì, no io non voglio sentire di lì, oh mio dio, arriva la prima caduta Reby, 3, 2, 1, ok, sani e salvi, siamo un po' bagnati ma siamo ancora sani e salvi, oh mamma, vieni ti forte Reby, io mi stringo, oh mio dio in alto, vai vai vai, oh mamma mia, ehi non lasciarti se no io cago, oh cavolo, eh Reby c'è un problemino, se ne è discesa, sei pronta? 3, 2, 1, ahhh, divertentissimo! Bruttoni, vi faccio una moto! Ma come bruttoni eh? Adesso busserò questa porta! Vai Molly, attento eh! Sono Molli, direi via Molli! Non rispondono, venite, proviamo a bussare più forte! Aprite! Non aprono? Non aprono! Niente, proviamo a sbirciare! Cosa c'è? C'è, non lo so che cosa c'è, non si vede bene! Adesso entriamo! Come entriamo? Eh, non sbirciare, è forfantone! Guardate ragazzi, c'è un leone gigante! E se ne metto un dito in bocca! Adesso dove andiamo? Adesso andiamo a Venezia! C'è, ovviamente, Venezia è in miniatura! Entriamo qua con la barchetta! Prenderemo la barchetta! Eccoci ragazzi! Siamo sulla gondola! Sì, stiamo entrando nel canale di Venezia! C'è un ponte ragazzi! Guardate c'è una barchetta! Guarda Rabbi, io si tocco eh! Come tocchi? Guardate c'è una barchetta! C'è una barchetta! Wow! E qui ci sono tutte le casine! Eh! Guarda! Ah, sono degli hotel! Hotel Principe, Hotel Continental! Ah, è proprio un giretto romantico! Eh sì! Adesso ci diamo un bacino sulla gondola! Sì! Come veri innamorati! Oh guarda! Guarda! Ci sono dei signori minuscoli sulla barchetta! Ciao signori minuscoli! Ciao! Come vi chiamate? Piacere! Noi siamo Rabbi e Molly! Ciao! Signori minuscoli! Guarda Rabbi! Che bello! Guarda che bella la nostra gondolina! È bellissima! È tutta nostra! Eh sì! Piena di Rabbi e Molly! Ciao! Eh! Signori! Signori! Ciao! Salve! Salve! Signori! Tutto bene eh? Guardate! C'è un ponte! Ci passeremo qua sotto! Che bello! Siamo sotto il ponte! Sì! Ciao! Ciao! La Rabbi ci fa le storie intanto eh! Siamo sotto il ponte! Sotto il... Ciao bruttoni! Vi faccio una foto! Look at me! Sotto il ponte di baracca c'è Pierin che fa la cacca! La fa dura dura dura... Il dottore! La misura! La misura! La misura! 33! Uno, due, tre! Tocca proprio a me! Oddio il ponte Rabbi! No! Non alzarti! Non alzarti! Giù! 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 Siamo troppo grandi! Siamo proprio dei giganti in confronto a questa città eh! Guardate quella barchetta! La prendo con le mie mani! È tutto così piccolo! Mi vanno dei mini hamburger! Eccoci ragazzi siamo a Venestia in miniatura! Guardate c'è la bandiera dell'Italia! Viva l'Italia! Ed ecco qua! Sembra tutto gigante ma è piccolissimo! È tutto piccolo! Guardate voi! C'è questi sono i miei piedi! Guardate! Eccoci ragazzi siamo arrivati nel regno di Pinocchio! Pinocchio! Eh, Rabbi c'è un problema! C'è qualcuno sopra la nostra testa! C'è mangià fuoco! Vieni guarda! No! C'è mangià fuoco! È lì sopra! Scappa! Andiamo via! Andiamo via! Eccoci Rabbi guarda! Stiamo per entrare nella bottega di Giappetto! Questo sembra! Oh mio Dio! Oh mamma c'è tutto questo legno! Un pezzo di legno! Un pezzo di legno! Che c'è il vento guarda! Mi raccomando iscriviti eh! Ciao! Ciao Pinocchio! Non si guardano Rabbi! Che barbacca! Oh Rabbi cosa si fai lì? Eh io sono quella là! Non sono quello lì! Sono inquietanti questi Rabbi! Inquiettela a volte! C'è una macchina che va un po' lenta! Vuol battere il mio 5 Rabbi! Vai voller! Oh Rabbi ci sei te guarda! Eh io non sono le le fanno! Brava Rabbi brava! Eh ci sei anche te guarda! Ciao Rabbi come stai? Ehi sei te! Oh! Entriamo negli abisci Mario! Oh! No! C'è la balena! Ci sta per inghiottere la balena! Oh mio Dio! No! Oh mio Dio! No! E siamo a Parigi! Adesso vedremo tutte le costruzioni! Qua c'è la torre Eiffel! Bellissima eh! È un po' piccolina eh! Un po' piccolina questa torre Eiffel! Ehi Rabbi sono qua dentro! Sono alta quanto la torre Eiffel! Adesso vediamo altre costruzioni mini! Guarda Rabbi un mini castello! Wow! È proprio piccolino! Sono più grosso di questo castello! Qua ci sono altri castellini mini! Siamo nella mini città dei Minion! Questo qua è Fusen! È Fusen! Però non si può arrivare la giù! Qua siamo nel nord! Siamo al Monte Cristallo! Guardate che bello! Guardate che bello! È tutto minuscolo! È tutto mini mini mini! Bigi bigi! Oh! Sta arrivando il treno Rabbi! Oh! Il treno! Il treno! Sta arrivando il treno! Questo treno non ci stiamo neanche! Treno! Treno! Non ci sta neanche la mia mano dentro questo treno! Treno! È piccolissimo! Ehi fermati trenino! Fermati trenino! Fermati! Trenino! Guardate è talmente piccolo che lo riesco a prendere così! Non si ferma! Incredibile! Ok! Stiamo entrando! Qui siamo nel nord Italia! Guardate si vedono ancora le Alpi! E dobbiamo arrivare laggiù sulla punta! Quindi in Sicilia laggiù! Qui che cosa c'è? Gorsia! Una prigione! Sembra una prigione! Castello! Gorizia! Gorizia! Io sono dislessico! Guarda Rebi il treno! Passa il treno! Treno! Eh! Treno! Treno! Si sta fermando! Si sta fermando! Forse ci fa salire! Si fa salire! Così! Treno! Eccoci ragazzi siamo arrivati a Milano! Guardate che bella la cattedrale di Milano! Chi di voi è di Milano? Metta like e scriva nei commentini! Rebi guarda che bello Venezia! E c'è il porto! E' bellissimo eh! Che belle barchette! Guarda Rebi c'è il parco giochi! Facciamo partire qualcosa il parco giochi! Vai fai partire! Oh! Hai fatto partire quello! Vai Rebi fai partire qualcosa! Vediamo qua cosa succede! Cosa succede? Cosa succede? Non succede? Non è successo niente! Ehi! Ecco! Guarda! Bravo Rebi! Hai fatto partire il camion! Con lo stracchino di Nonno Nanni! Lo stracchino di Nonno Nanni! E' partito! Faccio partire anche il trenino! Vai vai fa partire Rebi! Via! Rebi ma cosa hai trovato? Ed ecco la torre di Pisa che pende che pende che poi cade giù! Siamo a Pisa! Guardate che bello! Guardate la torre di Pisa! E c'è il campanile! C'è il campanile! Tink! 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 Guarda Rebi! Una mini fontanella! Io voglio bere dalla mini fontanella! Non si può bere dalla mini fontana! E poi.. Guarda Molly! Qua c'è il Colosseo! Siamo arrivati fino a Roma! Ne abbiamo fatto di strada! Eh! Oggi abbiamo fatto tutta l'Italia! Guarda che bello! Eccoci, siamo sul trenino di Italia in miniatura, guardate da qui possiamo vedere tutta l'Italia in miniatura dall'alto, ciao a tutti, ciao Italia in miniatura, siamo a Lettino, sono brava come cameraman. Bene ragazzi, per questo video è tutto, se vi chiedete perché siamo bagnati, lo scoprirete in uno dei prossimi divertentissimi video, sarebbe molly e tutto, esatto e anche da Italia in miniatura, vi salutiamo e ringraziamo tantissimo il parco Italia in miniatura perché ci ha fatto venire a passare questa giornata stupenda, un salutone, ciao! Ciao a tutti!